Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Gesù. In quel tempo, mentre era a mensa con i Suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, «In verità, in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, «Signore, chi è?» Rispose Gesù, «E' colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni, infatti, pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto, «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito». «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse, «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù, «Dove io vado, tu per ora lo vado». «Non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse, «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù, «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico, non canterai il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Siamo nel Cenacolo, in un momento di profonda intimità tra Gesù e i Suoi discepoli. Si dice di un sentimento di Gesù che fu turbato profondamente, perché l'opera di Gesù si sta concludendo con i Suoi discepoli con un fallimento. Pensate, un maestro del calibro di Gesù che deve subire la sconfitta di essere tradito da uno dei Suoi discepoli. Potremmo pensare che Gesù, molto turbato, vive un po' quella sfiducia che ci è stata raccontata anche da Isaia, la sfiducia del servo del Signore, quando dice, «In vano ho faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze». Capita spesso anche a noi, in un momento di sfiducia, di chiederci, ma che cosa è valso tutto questo impegno, questo sforzo? Quando tutto sembra vanificarsi, ma il servo dice, «Certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il Signore». E così è stata tutta la vita di Gesù, sempre in rapporto con il Padre, sempre determinato dalla volontà del Padre. E perciò anche il tradimento, che è l'apparente sconfitta di Gesù, diventa l'ora in cui Gesù sarà glorificato e Dio sarà glorificato in Lui. Gesù, turbato profondamente, dice anche una parola, «Uno di voi mi tradirà». E allora gli Apostoli cominciano a guardarsi l'un l'altro quasi per chiedersi, ma chi di noi è il traditore? È curioso questo particolare, ma ci rivela che in fondo, in fondo, in ciascuno di noi si può nascondere un potenziale traditore. E noi abbiamo bisogno di essere rassicurati. Ed è anche curioso che poi chiedono a Gesù stesso informazioni. «Dici chi è che tradirà?» Perché è soltanto quando ci troviamo davanti all'amore che noi possiamo comprendere se siamo fedeli o traditori. E poi qui compaiono tre figure dei discepoli in modo particolare. La prima potremmo dire che è una comparsa veloce, ma è di tutti e tre il discepolo che più dovrebbe questa sera conquistare la nostra attrattiva. Perché questo è il discepolo che Gesù amava, il discepolo amato. Non si dice il nome, si dice l'essenziale della sua identità. Lui è amato dal Signore. E perciò lui può anche compiere quel gesto di chinarsi verso il petto di Gesù con confidenza. Il gesto dell'intimità. Poi abbiamo due figure, il racconto si sdoppia, in due discepoli che rinnegheranno la loro appartenenza al Signore, Giuda e Pietro. Noi questa sera vogliamo soffermarci un po' a contemplare il cammino di Pietro. Gesù dice, voi mi cercherete, ma dove io vado non potete venire. Non è a caso che è proprio Pietro a chiedere a Gesù, ma dove vai? Perché anche un po' di tempo prima c'era stata una crisi all'interno del gruppo dei discepoli. Qualche uno dice a Gesù, ma la tua parola è dura? E allora Gesù li lascia liberi. Volete andarvene anche voi? E Pietro prende la parola e dice dove, ecco questo è il fatto, dove vuoi che noi andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Pietro è veramente un uomo di fede. Cerca Gesù. O meglio, da quando Gesù lo ha cercato sulle rive del lago di Galilea, Pietro non ha più rinunciato ad andare dietro a Gesù, vuole essere dove è Gesù. I problemi per Pietro sono nati il giorno in cui Gesù ha cominciato a parlare apertamente della sua passione. La destinazione fa problema a Pietro. Salire a Gerusalemme, essere riprovato dagli anziani e dai capi, soffrire molto. E allora Pietro tira in parte Gesù, i ruoli si rovesciano, è lui che vuole salvare Gesù, che lo vuole sottrarre dal rischio di un fallimento. Proprio adesso che le cose sembravano andare bene perché la folla è entusiasta di Gesù. Gesù potrebbe vincere e comincia invece a dire che lui soffrirà, che sarà un debole, un perdente. Pietro dice no, questo non ti succederà mai, perché Pietro di per sé come carattere è un vincente e non riesce ad ammettere nella sua mentalità un Messia che è un debole. Pietro è un discepolo particolare, è un tipo che tende a esagerare, che prende subito la parola in maniera impulsiva, magari anche riflettendoci poco. Generoso, ma la sua generosità spesso è inopportuna, centra poco con la situazione. Ora nel Cenacolo Pietro dice a Gesù ma perché non posso seguirti ora, ho tutte le carte in regola e fa un giuramento solenne a Gesù, darò la mia vita per te. Gesù predice il rinnegamento, darai la tua vita per me, in verità, in verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Pietro è pronto a combattere, Pietro è pronto a dare la vita per Gesù, ma non è pronto a seguirlo in una via di debolezza, di apparente sconfitta, non riesce ad accettare il costo della umiliazione. La promessa di Pietro finirà in un rinnegamento. Potremmo chiederci ma perché rinnega Pietro? Forse per paura non sembrerebbe, perché Pietro non è un vile. Tant'è vero che lui segue da lontano Gesù perché gli interessa vedere come va a finire con Gesù. e arriva addirittura nel cortile del sommo sacerdote, si mette là dove hanno acceso un fuoco, si espone al rischio di essere interrogato dai servi. E la cosa avviene. Tre domande, o meglio tre affermazioni, da cui ci si attende una reazione di Pietro. Anche tu eri con loro? E perciò anche tu eri con il maestro? e Pietro dice non lo conosco, nega Gesù. Forse Pietro vorrebbe dire non lo riconosco, perché rispetto a come io l'avevo visto all'inizio, un maestro affascinante che si tira dietro le folle, adesso me lo vedo debole, sconfitto, non lo riconosco. E qua guardate che è il vero problema di Pietro. Pietro non è un pauroso, non gli manca coraggio, gli manca fede, gli manca di riconoscere il Messia inviato da Dio in questo Gesù della Passione. Seconda provocazione, anche tu sei uno di loro? E Pietro dice non lo sono, nega la comunità. Terza provocazione, è Galileo, non so cosa dici, risponde Pietro che rinnega se stesso. Pietro rinnega Gesù, rinnega la comunità, rinnega se stesso e il gallo canta. Pietro non sa più chi è, ha perso se stesso, perché perdendo la relazione con Gesù e con gli altri, la sua identità è andata in frantumi. Vi ricordate che ieri sera abbiamo parlato di un vasetto, quello di Maria, pieno di nardo profumato, che viene spezzato e così il profumo viene versato su Gesù. Quel vasetto è il simbolo della nostra identità. E vi ricordo che nell'ebraico il nome profumo è lo stesso per dire il nome di persona, perché il profumo è l'essenza del fiore e il nome è l'essenziale di noi stessi, della nostra personalità. Ora, in quella donna che versa il profumo c'è tutta la sua personalità, c'è il suo nome, c'è la sua essenza che è espressa nel dono. Pietro rinnega la relazione con Gesù, perde l'essenziale, perde il profumo, perde l'identità, non sa più chi è. Chi lo recupererà è Gesù risorto. Gesù aveva approvato il desiderio di Pietro, dove sei tu verrò anch'io, soltanto Gesù gli aveva detto più tardi. Gesù non ha risparmiato a Pietro l'esperienza del rinnegamento, che è stata una tappa essenziale per la conversione, per far cambiare la testa a Pietro. Dov'è l'errore di Pietro? Non nello slancio di generosità verso Gesù, ma nella presunzione di farcela con le sue forze, di essere lui l'epicentro della relazione con Gesù, come se a portare avanti questa relazione fosse la bravura, la fedeltà, l'intraprendenza di Pietro. E questa è la lezione anche per noi questa sera. Si può andare dietro a Gesù soltanto perché si è chiamati, perché si ha una grazia che ci farà superare anche tutte le prove che il discepolato comporta. È Gesù che recupera Pietro. Voi vi ricordate sicuramente quell'altra bella scena. Gesù è risorto, ancora va sulle rive di quel lago, incontra Pietro e gli rivolge per tre volte la domanda mi ami tu, mi ami tu più di costoro e per tre volte Pietro risponde a Gesù ti voglio bene. Gesù aveva detto anche più di costoro. Stuzzica Pietro che vorrebbe sempre primeggiare, essere di più degli altri. E in qualche modo Gesù vuol far capire a Pietro che lì è stato il suo sbaglio. pensare di essere il primo anche nel rapporto con Gesù. Pietro vai dietro di me, già gliel'aveva detto Gesù. E Gesù vuole dire Pietro la tua fede è importante perché la tua fede riconosce a me di essere il primo che dà il passo al cammino. E Gesù fa rifare a Pietro questo cammino di recupero dal suo male, il male che aveva frantumato la sua identità. Pietro è addolorato perché dice ma Signore tu lo sai che ti voglio bene, tu sai tutto. Il perdono non è mai indolore né per chi lo dà né per chi lo riceve. Certo Gesù facendo per tre volte la domanda ma mi vuoi bene, mi ami gli ricorda che per tre volte lo ha rinnegato, certo. Però Gesù non vuole rigirare il coltello nella piaga. E' tutt'altra l'esperienza che Gesù fa fare a Pietro. E' la bellezza di poter dire per tre volte a Gesù che lui lo ama, che gli è amico. E questo è grande. Il peccato perdonato diventa l'occasione per una confessione, per una dichiarazione di amore sovrabbondante per il Signore. Gesù non accusa Pietro. Gesù è un po' come l'innamorato che elemosina la dichiarazione di amore dalla sua innamorata. Mi vuoi bene? L'amore non solo deve essere avvertito, deve essere anche dichiarato. Quando noi abbiamo problemi a dichiarare a una persona il nostro affetto, la nostra stima, il nostro apprezzamento, il nostro ringraziamento, vuol dire che abbiamo problemi dentro di noi. Spesso liquidiamo le relazioni difficili dicendo sono gli altri ad essere sbagliati. Talvolta è la nostra identità che è disturbata, come un po' per Pietro. E allora proiettiamo sugli altri i nostri malesseri. Il peccato perdonato diventa occasione per dichiarare alle persone, al Signore anzitutto, il nostro amore sovrabbondante, anche per dichiarare la verità. E cioè, non io, non Pietro, è pronto a morire per Gesù, ma è Gesù che è pronto a morire per Pietro. Ora che Pietro confessa di appartenere a Gesù, rinuncia a primeggiare, fa un passo indietro, Gesù gli affida la Chiesa. Quando Pietro sta al giusto posto nella relazione, allora diventa affidabile. E Gesù gli dice, pasci le mie pecorelle, che vuol dire dai da mangiare ai tuoi fratelli e dai da mangiare come il pastore buono e bello che offre la vita per le sue pecore. È bello che Pietro, che ha rinnegato, che ha confessato l'amore sovrabbondante, ora riceve una missione. è un compito ricevuto, non è un compito che Pietro si è preso. E la prova sarà che adesso Pietro accetta anche la modalità di Gesù nell'essere pastore che si prende cura dei fratelli, cioè soffrire per chi si ama, perché soffrire è un verbo dell'amore. Cari fratelli e sorelle, chiediamo questa sera di recuperare i nostri rinnegamenti, i nostri no detti a Gesù e detti al nostro prossimo per trasformarli in altrettante dichiarazioni di amore. Così potremo recuperare la nostra identità profonda. Vorrei suggerirvi questa sera, addormentandovi, abbiate questo pensiero, Signore, Tu sai tutto, Tu sai che Ti voglio bene. Grazie.